Hey la, salve a tutti, sono ThePay96 e benvenuti in questo nuovo video. Bene ragazzi, questo sarà un video molto molto veloce, come vedete sto facendo un vlog perché è più comodo di mettervi l'immagin... cioè più bello di vedere l'immaginetta solita del mio logo. Una volta ogni tanto facciamolo sto vlog perché questo video, come da titolo, sono delle piccole informazioni sul canale. Come avete visto sto tornando a fare video, quindi piano piano ricominceranno tutte le serie e continueranno quelle in corso, cominceranno quelle nuove, con molta calma perché comunque è complicato fare tante serie diverse insieme, quindi preferisco concentrarmi più su un paio alla volta e poi aggiungerne man mano che finiscono le live. Le live saranno presenti sul canale, penso almeno una volta alla settimana. Queste live verranno anche registrate. Questo cosa significa? Mentre streammo registrerò la live. In questo modo voi la vedrete in bassa qualità in live, se la seguite in live, perché purtroppo come sapete la mia connessione fa K. Quindi c'è il giusto compromesso che devo farla a bassissima risoluzione. Ma proprio per il motivo che viene anche registrata contemporaneamente, arriverà sul canale in 1080p a 60fps, quindi a qualità massima. Questo però solo ed esclusivamente delle serie principali. Quindi quali sono le serie che farò in live? Portal 2, che continuerà dato che era stata messa in pausa da parecchio tempo, Undertale, Evoland e Evoland 2 successivamente. Queste sono le serie che verranno anche registrate. Mentre per tutte le altre live, purtroppo, se non riesco con il cellulare a fare da hotspot, ci toccherà tenercelo con la mia DSL, quindi sgranatissimo. Però fluido, almeno quello. Fluido ma sgranato. Detto questo, io non ho altro da dire, se non è fatto che alla fine del video vedrete la nuova outro, sperando che funzioni giusta. Se vedete quella vecchia, vuol dire che non funzionava, non è riuscita giusta e l'ho cancellata immediatamente. Quindi ragazzi, da ThePay96 è tutto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!